ciao allora l'altra volta ho fatto questa marmita che comunque risultato è molto deludente perché si era bruciato però non sapete vedere che sono venute brutte perché lascia via lascia via bruciava le fiamme spegni alla fine ora ho deciso di accorciarla questo centimetri e mezzo che c'è questa lona qui praticamente lo taglio qui però i rivetti vediamo che succede il sistema delle saldature meglio che fanno schifo e vediamo se riesco a recuperare questo allora ho ovviamente divelto il silenziatore dal corpo che penso che la saldatura prima ora non ce ne ho, eravamo incastrato, allora sistemo queste saldature qui insomma le cosette taglio lì e vediamo che è successo adesso la saldatura ho potuto sistema un po' meglio certo non è eccezionale però non è più quel troiaio che c'era prima e non c'era più il problema del calore che mi impediva di fare una passata quindi adesso va bene così adesso devo curare pulizie cose eccetera eccetera poi piano piano ho messo l'acido per pulire le saldature che sono queste le saldature per fare sbiancare con un puzzo che penso che muoio quindi se questo video non avrà un servito non è coppa mia e l'acido che ho fatto il suo lavoro allora il lavoro è finito diciamo che sono soddisfatto a metà però è la prima volta che facevo un lavoro così complicato sempre qualche piccolo ripristino minuscolo da fare però devo essere sincero rispetto a prima ciao 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 ciao